La nostra installazione è concepita come casa nella casa, ovvero come forma di incorporazione virale. C'è un lungo velario vetrato che protegge i materiali veri dell'installazione, che non sono l'installazione ma il suo contenuto. Quattro sperimentazioni su quattro materiali tradizionali della regione Umbria, condotti da quattro designer artisti dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, in particolare la ceramica su cui ha lavorato Arthur Duff, il legno su cui ha lavorato Marco Fagioli, la carta su cui ha lavorato Pietro Carlo Pellegrini e infine il veto su cui ha lavorato Paul Robb. Da due anni a questa parte l'Accademia di Belle Arti di Perugia ha avviato, su incarico della regione Umbria, un nuovo percorso di costruzione ideologica e che in qualche modo è il viatico per il futuro, una nuova Umbria che sa anche guardare avanti. Credo che oggi più che mai i confini non vadano aperti ma vadano annullati, quindi forse l'installazione di cui parliamo ha forzato open borders in no borders.